Siamo allo stadio. Due tifosi. Eh, ma è anche lei qui. Ma non mi dica. Allora le piace il calcio, veramente? Guardi, sì, tantissimo, ma soprattutto se ben tirato nel fondo schiena di chi mi fa domande. Idiote! Eh, che carattera, che caratterino. Ma guardi che il calcio va bene, fa molto bene il calcio. Sì, sì, guardi, a proposito, le do un consiglio. Inizia a prenderlo già adesso, perché fa benissimo a chi ha le ossa rotte. Eh, guardi che ovviamente tifo anche l'Italie, eh? L'Italie, sì. Ma ovviamente, naturalmente, la Francia che fa battere il mio cuore. La Francia, vive la Francia, la Francia, la Francia. Oh, guardi, non mi dica. La Francia, la Francia, la Francia. Io adoro la Tour Eiffel, il Notre-Dame di Paris, il Camembert, il Moulin Rouge, ma quella vostra è remoscia molto Monte Carlo che avete. Anche se la cosa che preferisco è la maniera con cui la Svizzera ha sbattuto la Francia fuori dai coglioni agli europei. Grazie. Grazie. Grazie.